Musica Calabria, seconda regione per Novax, sono più di 200.000, non bastano nemmeno i tamponi, l'analisi della CGA di Mestre, carenza di test, da lunedì due milioni di lavoratori a casa, diverse decine di migliaia potrebbero essere calabresi. L'abbraccio dei calabresi è commovente, tanto affetto ci aiuta a metabolizzare il lutto. Paola e Roberta, sorelle di Iole Santelli, ringraziano i calabresi per gli attestati di stima e vicinanza. Stamane, nella piazza della cittadella regionale a Catanzaro, la commemorazione in memoria della defunta ex presidente della regione. Esordio per la nuova giunta di Corigliano Rossano, stamane il primo consiglio comunale della nuova era. Il gruppo consigliare Corigliano Rossano domani ufficializza la rottura col sindaco Flavio Stasi, che ora può contare su 13 consiglieri, 12 quelli all'opposizione. I sogni della piccola Silvia e il coraggio di una mamma, da Montalto Fugo la storia di Silvia, la bimba cosentina volerà a Cuba per curarsi, affetta da una malattia rara, unico caso in Italia, 24 in tutto il mondo. Nuova edizione del nostro telegiornale, apertura dedicata, lo avete sentito poc'anzi, dai titoli del sommario all'emergenza coronavirus, o meglio agli effetti ulteriori che potrebbero essere determinati dall'entrata in vigore ieri dell'obbligatorietà del Green Pass, che serve, lo ricordiamo, per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati. Il Green Pass si ottiene, lo sapete, con il vaccino oppure avendo a disposizione un tampone. La situazione però determina una difficoltà ulteriore, che non è una difficoltà di poco conto. Ci sono in Italia e anche in Calabria molti che mancano alla campagna vaccinale, non ci sono tamponi disponibili e non c'è una organizzazione territoriale in grado, appunto, di fare i tamponi a chi lo deve richiedere, naturalmente tenendo conto di numeri che sono particolarmente ampi. Ma sentiamo nel servizio i dettagli di questi dati, di questa analisi elaborata dalla CGA di Mestre. Lunedì prossimo due milioni di lavoratori rimarranno a casa, perché impossibilitati a farsi il tampone per avere il Green Pass. Di questi, diverse decine di migliaia potrebbero essere calabresi, visto che la regione è la seconda più no-vax dopo la Sicilia. Secondo i dati raccolti ed elaborati dalla CGA di Mestre, le farmacie e le strutture pubbliche e private dedicate a questo servizio non sono in grado di fare giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda. La regione più no-vax è la Sicilia, con il 24,3% di non vaccinati. Poi la Calabria, nella nostra regione la percentuale del 23,4%, mancano alla campagna vaccinale ben 226.745 calabresi. Il Green Pass si ottiene, lo ricordiamo, o con vaccino o con tampone, ma nel secondo caso non sarà possibile garantirlo per tutti. E staremo a vedere dunque cosa accadrà lunedì sulla base dei dati che abbiamo appena ascoltato nel servizio. Noi ora cambiamo argomento, passiamo ad occuparci di politica, perché a Ciro Marina stamane c'è stato un incontro istituzionale. Protagonisti, da un lato la sottosegretaria per il Sud, Dalila Nesci, dall'altro sindaci ed amministratori del territorio. Sentiamo. Sì, i sindaci sono l'avamposto dello Stato e quindi ho voluto, come rappresentante del Governo, essere presente qui nell'area del Ciriotano per l'ascolto vero e sensibile di questi territori e soprattutto per portare a Roma le istanze che sono quelle cruciali dei servizi essenziali. Siamo già impegnati in tutti i ministeri con il focus Calabria, quindi era necessario e doveroso una mia presenza qui. Non c'è alcun testo che sia passato dal Consiglio dei Ministri o del Parlamento con il contenuto dell'autonomia differenziata, quindi siamo in una fase di non allarme. È evidente che ci sono sempre spinte diverse in questa nostra Italia che è variegata, ma noi presidiamo il Sud e il nostro Mezzogiorno d'Italia. Sono già state assunte 800 persone con le sedi assegnate ed è proprio ieri sera che è uscito un altro concorso per il Mezzogiorno d'Italia e quindi le risorse dentro la pubblica amministrazione nel Sud di 2022 unità. Quindi questa è una notizia di oggi che è giusto riverberare perché il punto cruciale della riuscita, della messa a terra del PNRR sarà proprio la capacità che avranno i comuni di progettare ed è lì che noi stiamo immettendo risorse in quella pubblica amministrazione che tanto ha subito durante i tagli dell'austerity. Ieri invece l'anniversario della morte di Iole Santelli, la prima presidente donna della Regione Calabria. stamane nella piazza della cittadella regionale, la commemorazione ufficiale. Sentiamo. Noi siamo veramente molto commosse e onorate di tutte queste testimonianze di affetto. Questa giornata la consideriamo un ulteriore abbraccio del popolo calabrese a Iole e tutte queste manifestazioni di affetto ci stanno aiutando nel percorso di metabolizzazione della perdita di una grande sorella. È vero, Iole era stimata, è stimata e amata da tutti, soprattutto, l'hanno detto anche ieri al Senato, soprattutto per la sua preparazione, perché studiava, studiava sempre, io come sorella e noi come sorelle la possiamo testimoniare. Era sempre con le valigie cariche di libri, sempre con le braccia cariche di faldoni, le domeniche le passava a studiare, le vacanze di Natale per lei erano soltanto studio, ma perché si divertiva e le piaceva, le piaceva moltissimo, era la sua passione, la politica, lo studio, la giustizia e soprattutto la Calabria, soprattutto negli ultimi anni. Ed ora passiamo alla cronaca. Delia Nuova e i carabinieri hanno arrestato tre persone per produzione di sostanze stupefacenti, uccisione o cattura di specie, animali protette. risale ad alcune settimane fa il rinvenimento di una piantagione di marijuana con 730 piante in un terreno comunale. A seguito di quel rinvenimento sono state avviate le indagini ed a seguito delle perquisizioni domiciliari a carico dei tre soggetti coinvolti in un'abitazione i militari dell'arma hanno rinvenuto diversi esemplari di ghiri considerati animali di specie protetta. Una ingente quantità, congelati e confezionati in oltre 50 pacchetti destinati alla vendita o al consumo. Ancora con la cronaca. Sono state infatti presentate al GUP di Catanzaro le richieste di alcuni degli imputati nell'inchiesta Petrol Mafia istruita dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. In 18 accedono al rito abbreviato, in 9 hanno invece chiesto di patteggiare. I giudici invece della Corte di Cassazione hanno espresso dubbi sul reato associativo contestato nel procedimento basso profilo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro all'assessore regionale al bilancio Francesco Talarico. Per i giudici non vengono indicati dal Tribunale del Riesame gli elementi specifici su cui fondare la partecipazione di Talarico alla struttura associativa. Su questo specifico aspetto dovrà dunque pronunciarsi nuovamente il Tribunale del Riesame. Un secondo passaggio che tuttavia potrebbe arrivare dopo la sentenza di primo grado. L'assessore ha infatti chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e per lui i pubblici ministeri della DDA di Catanzaro hanno chiesto una condanna a 8 anni. Ancora con la cronaca per l'omicidio di Cataldo Aloisi, ucciso il 27 settembre del 2008 a Lonate Pozzolo in provincia di Varese, il PM della DDA di Milano Cecilia Vassena ha chiesto ai giudici di Busto Arsizio l'ergassolo con isolamento di urno per Vincenzo Rispoli, Silvio Farao, Cataldo Marincola, Francesco Cicino e Vincenzo Farao. Aloisio era sposato con Elena Farao, ma non sembrava nutrire riverenza verso il suocero e i cognati appartenenti al clan Farao Marincola. Fu trovato ucciso davanti al cimitero di San Giorgio su Legnano in una intercettazione. Due imputati dicevano Chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca, ma abbiamo ancora spazio per un'altra notizia. Quattro persone sono state infatti denunciate dai carabinieri forestali nell'ambito di una vasta azione di controllo del territorio che ha portato in provincia di Catanzaro al sequestro di quattro aree e sanzioni amministrative per circa 3.500 euro. Tra le persone denunciate figura una pensionata 67enne di Lamezia Terme che aveva in casa una testugine africana. Sentiamo. La stazione carabinieri forestali di Lamezia, nell'ambito di altri servizi che faceva unitamente anche all'arma territoriale, si è imbattuta in un soggetto che deteneva abusivamente una testugine africana, una specie che è protetta da una convenzione e di cui è vietata la detenzione. Abbiamo rivenuto questo esemplare di testugine africana che è un esemplare che è regolamentato da normativa europea e da normativa nazionale. Per essere detenuti questi animali che sono inclusi nell'allegato B del regolamento CE della CITES devono essere tracciati. Ci deve essere un certificato di regolare detenzione in cui l'animale deve provenire o da allevamento o da certificazione CITES. Questo soggetto non aveva tutta questa documentazione e pertanto ritenendo la detenzione illegale, abusiva, abbiamo proceduto al sequestro. Questa è una testugine africana, quindi non endemica delle nostre zone e ha bisogno di particolari climi per cui noi andremo a riprendere la testugine e darla in affidamento a un centro di recupero animali selvatici. E stamane, dopo gli arrivi registrati nelle passate settimane lungo le coste della Locride ed in particolare al porto di Roccella Ionica, c'è stato un nuovo sbarco, questa volta però sulla costa crotonese. 60 i migranti arrivati. Una parte è stata intercettata sulle spiagge di località cannoniere, altri erano a bordo di una imbarcazione e sono stati accompagnati al porto di Crotone. I migranti sono tutti uomini di nazionalità pakistana e bangladese. Come da prassi, al termine delle operazioni di identificazione e screening sanitario, i migranti sono stati trasferiti presso l'hub regionale di Isola Capo Rizzuto. Ora andiamo invece a Corigliano Rossano, ce ne eravamo occupati nei giorni scorsi. Mi riferisco alla crisi che ha attraversato la maggioranza che sostiene il primo cittadino Flavio Stasi, una crisi che ha determinato il varo di una nuova giunta comunale, che stamani ha fatto il suo esordio in Consiglio comunale, e anche il passaggio all'opposizione di alcuni consiglieri che prima erano in maggioranza, con numeri che attualmente sembrano essere risicati a sostegno di Flavio Stasi. Il servizio. Nuova vita per l'amministrazione comunale di Corigliano Rossano, guidata da Flavio Stasi. Oggi il primo consiglio comunale della nuova era, alla presenza della neonata giunta nominata dal sindaco nei giorni scorsi. Entrano in esecutivo due consiglieri comunali, Maria Salimbeni e Alessia Alboresi. Dall'esterno arrivano Costantino Argentino e Damiano Viteritti, mentre sono due le conferme che hanno resistito all'azzeramento, Tatiana Novello e Mauro Mitidieri. Altra novità di giornata, per alto scontata, il salto del fosso del gruppo consigliare Corigliano Rossano domani. Risicati a questo punto i numeri a sostegno di Stasi. 13 consiglieri di maggioranza, 12 di minoranza. Allora, è un'impresa. Sono stato chiamato dal sindaco per affrontare questa nuova attività. E' stata una decisione vagliata, ponderata, con sacrifici da dover mettere in campo e che cercherò di svolgere nel migliore dei modi possibili. Certo non è semplice entrare nella macchina comunale in corsa, però stiamo lavorando nel migliore dei modi, tamburi battenti e i prossimi obiettivi saranno sicuramente il periodo natalizio, quindi la programmazione natalizia. Ed ora ci spostiamo a Montalto Fugo, in provincia di Cosenza, per raccontare una storia fatta di coraggio, di dedizione, di amore di una madre nei confronti della propria piccola figlia. Si tratta di Silvia, una ragazza definita speciale dalla mamma che è affetta da una rarissima patologia. Pensate, ce n'è un solo caso in Italia, 24 in tutto il mondo. Silvia si appresta a fare un viaggio particolarmente importante. Andrà a Cuba per essere curata in un centro che rappresenta la sua concreta speranza per aumentare la qualità della vita e diminuire le sue sofferenze. È un racconto decisamente emozionante. A lei mi dà la forza, ma a lei è troppo bella, è troppo. A parlare è serena mai dalla giovane mamma di Silvia, una bambina affetta da una rara malattia genetica, unica a casa in Italia. Nel mondo ce ne sono solo 24. È la PNPT1, talmente rara da non avere neanche un nome. Ha bisogno di tanta terapia perché al momento è l'unica cosa che possa pensare di migliorarla. Ad oggi la malattia è molto poco conosciuta, è sconosciuta. Noi tutti sappiamo che esistono i bimbi che non stanno bene, però quando poi ci entri dentro e la vivi ti rendi conto davvero di quanto complicato sia, di quanti casi diversi esistono, di quanto aiuto serva. Tante mamme con bimbi speciali come la mia sono venute a dire a me di essere forte quando magari loro in casa hanno un caso come quello di Silvia, migliore, peggiore. Insomma, non si può realmente quantificare, però loro volevano informazioni. Quindi questa è una cosa che mi gratifica tantissimo. Io realmente non so come poter ringraziare questa comunità che sta facendo l'impossibile per questa bambina. La speranza per Silvia è ora il Centro Internazionale di Riabilitazione Neurologica a Cuba, un'eccellenza a cui si rivolgono pazienti da tutto il mondo e Silvia trascorrerà lì il Natale. Il Natale. Io sono nata a Natale, quindi per me è una cosa grandissima. Vuol dire che passeremo il Natale a Monica e Corte. Questo succederà, però non importa perché è per il bene di Silvia, quindi se dovessi trasferirmi lì per sempre lo farei, se dovessi andare in capo al mondo lo farei, lo farebbero tutti. Il racconto completo di questa straordinaria storia di amore, ma come avete sentito dalle parole della giovane mamma serena e anche una storia di vicinanza della comunità ad una famiglia che soffre, il racconto di questa storia, dicevo, lo trovate per intero sul Corriere della Calabria. Noi siamo però ora alla pagina finale di questa edizione del nostro telegiornale. Ci spostiamo a Reggio Calabria per una iniziativa particolare in ricordo ed a celebrazione di un artista di fama internazionale a cui a Reggio Calabria ha dato i Natali. Si tratta di Umberto Boccioni, con una cena futurista prevista per il 19 ottobre. La comunità di Reggio Calabria rende omaggio a Boccioni. Sentiamo. Quando l'imprenditoria sana della nostra città, le associazioni culturali e le istituzioni si mettono insieme, possono soltanto nascere cose belle, positive e produttive per il nostro territorio. Io credo che questa sia la sintesi migliore per descrivere il significato della cena futurista, un'iniziativa di Elmar Marciano, un'iniziativa del nostro chef Cogliandro, che naturalmente noi promuoviamo e patrociniamo insieme alla collaborazione di tante realtà imprenditoriali cittadine. Con l'obiettivo di dare il giusto riconoscimento a un artista che è nato a Reggio Calabria, Umberto Boccioni. Beh, io qui ho Umberto Boccioni in questa immagine che mi ha preso tantissimo. Umberto Boccioni rappresenta la città di Reggio Calabria. Io abbraccio Umberto Boccioni. Boccioni è questo il senso. Abbracciamo tutti insieme la nostra città. L'obiettivo di questa iniziativa è dare visibilità a quella che è la nostra città in ambito nazionale e internazionale. Ovviamente se rimaniamo sul nostro territorio la cena ha una finalità sociale, quella di raccogliere dei fondi per il restauro dei tritoni storici della nostra città. Ed era questo l'ultimo servizio. Mi fermo qui. Grazie, come al solito, della Cortese Attenzione. Grazie.